Ecco, questo è il Baroni che piace ai tifosi del Pescara. Nella prima conferenza stampa della settimana il tecnico bianco-azzurro ha dichiarato andiamo a Carpi per vincere. Questo è l'atteggiamento che si profila in una settimana delicata perché si va sempre nella tana della capolista, ma quando non si ha paura, quando si ha coraggio, quando si ritiene elevata la forza della propria squadra è giusto anche andare oltre l'ostacolo. È vero che il Carpi è la difesa più forte del campionato e pur vero che la Pescara però ha l'attacco più prolifico dell'intera Serie B. Quindi si giocherà sempre su un campo alla pari con le forze che ognuno riuscirà a mettere in campo. Ma questo atteggiamento di non avere timori riverenziali ma soltanto rispetto per l'avversario è il giusto corroborante per una partita che comunque è difficile sulla carta. Castori e Baroni sono due tecnici con mentalità anche diverse. Castori sta compiendo un autentico miracolo ma Baroni sta crescendo insieme alla sua formazione. Un Pescara che avrà anche problemi di abbondanza, meglio così si dice quando la rosa è ampia e competitiva. Toccherà certo al tecnico scegliere le soluzioni migliori. Fare risultato a Carpi significherebbe presentarsi poi in ideali condizioni psicologiche oltre che con una classifica positiva per il match con il Bari. Ma non andiamo oltre. Contiamo sulla forza di questa squadra per la partita di Carpi. Certo i bianco-azzurri hanno anche il dente avvelenato per la sconfitta subita all'andata, la sconfitta più pesante. Lì iniziarono proprio i guai di Baroni ma a distanza di un giro nel tecnico bianco-azzurro si è ampiamente riscattato. Questa è la strada giusta per un gran finale di campionato.